Una buona serata a tutti da Marco. Buona parte dell'Europa è sotto l'egemonia dell'anticiclone, ma nel fine settimana sarà scalzato, forse definitivamente, dall'arrivo di impulsi freddi o molto freddi dal nord Europa o da nord est, che favoriranno precipitazioni ed un ritorno verso un'atmosfera di stampo invernale. Intanto per domani, e almeno fino a giovedì, il tempo continuerà ad essere pienamente soleggiato in tutta la penisola. Anche sulla nostra regione, così come è accaduto oggi, domani il cielo sarà sereno in tutti i settori e per tutto il giorno. La ventilazione sarà debolissima di direzione variabile a regime di brezza sulle coste, il mare calmo o quasi calmo. Le temperature minime di questa notte saranno comprese tra meno 2 e 6 gradi, stazionati alle massime di domani con valori compresi tra 10 e 14 gradi. Per la meteo è tutto, buon proseguimento di serata.